questa è Radio Monte Carlo, sabato 6 marzo, il compleanno, i 55 anni caspita che emoziona, che meraviglia è davvero bello poter essere a bordo di Radio Monte Carlo è bello perché ci si sente a casa elaborare a Radio Monte Carlo era il mio sogno da tantissimi anni continuate ad ascoltare questa radio perché è la leggenda viva Radio Monte Carlo, sempre! ma che giornata è stata! viva Radio Monte Carlo! Grazie! Grazie a tutti!